Siamo qui riuniti per celebrare il rituale di ritorno alla vita del faraone Raffi. Oh mio Dio, è vivo, è vivo, è vivo, è vivo, è vivo, è vivo, è vivo. Devo fare il cuorcino, guarda il cuorcino ti prego, rimarrà qua. Aiuto, cadono massi, si stanno svegliando, scappiamo. Mi dai 5 euro per favore, devo andare a prendere il ratman ti prego.